Marito e moglie uccisi a racalmuto, fermato il figlio, assolto dall'accusa di occupazione abusiva di una casa popolare, medici di famiglia domani visite ambulatoriali a lume di candela, anestesisti Intervento di Noi per la Salute Festival Universitario Nisseno della Ricerca Ben trovati, marito e moglie uccisi a racalmuto, fermato il figlio dei carabinieri il centro agrigentino piange la tragica morte di Giuseppe Sedita, 66 anni e Rosa Sardo, 62 Quelli non erano i miei veri genitori, sono queste le parole che Salvatore Sedita, 34 anni, avrebbe pronunciato davanti agli inquirenti Poi avrebbe aggiunto di vedere fantasmi, strane presenze e di fare uso di droga, in particolare crack Durante l'interrogatorio che si è svolto nella notte nella caserma dei carabinieri di Racalmuto, in provincia di Agrigento Salvatore Sedita, 34 anni, ha confessato di essere stato lui a uccidere i genitori Giuseppe Sedita e Rosa Sardo Il pubblico ministero, Gloria Andreoli e il procuratore capo facente funzioni, Salvatore Vella che stanno coordinando l'inchiesta sviluppata sul campo dei carabinieri sul duplice omicidio di Viale Rosario Livatina a Racalmuto hanno quindi disposto il fermo indiziato di delitto per pericolo di fuga Il 34enne, nel pomeriggio di ieri, quando è stato raggiunto telefonicamente dalla sorella che aveva trovato i cadaveri avrebbe subito ammesso il delitto Così è stato bloccato, mentre camminava a piedi per le vie del centro di Racalmuto, a un chilometro dal luogo del delitto l'appartamento degli alloggi popolari di Viale Rosario Livatino L'uomo è stato portato in caserma, dove era in corso l'interrogatorio della sorella che aveva ritrovato i cadaveri di Giuseppe Sedita e Rosa Sardo La procura nella notte ha avviato nei confronti del giovane che avrebbe pronunciato, frasi prive di logica una serie di riscontri e accertamenti di carattere psichiatrico Salvatore Sedita è stato trasferito in carcere e il capo dell'ufficio PM, Salvatore Vella, e il sostituto Gloria Andreoli nelle prossime ore chiederanno al GIP la convalida del fermo indiziato di delitto Sul luogo del delitto, intanto, è intervenuto il reparto speciale del Rist di Messina che dovrà effettuare nuovi accertamenti Non è chiaro, infatti, quando si è stato consumato il duplice omicidio Stamani è venuto a mancare un nostro giovane calciatore parte integrante da sempre della famiglia del Serra di Falco Calcio è quanto si legge sulla pagina social della società calcistica Serra di Falchese in riferimento alla morte di un 19enne apprezzato nel centro nissano soprattutto negli ambienti sportivi locali Addolorati dalla triste notizia, prosegue il post, la società tutta, lo staff tecnico e tutti i tesserati nel porgere le più sentite condoglianze si stringono alla famiglia in questo momento di immenso dolore Profondo cordoglio è stato espresso anche dai diversi club sportivi della Sicilia attraverso le rispettive pagine social Un sessantenne assolto dall'accusa di occupazione abusiva di una casa popolare Il fatto contestato risale al 2020 Il Tribunale di Caltanissetta della sezione penale è assolto dall'accusa di occupazione abusiva di un alloggio popolare un agente di commercio nisseno, sessantenne, perché il fatto non sussiste Il fatto contestato risale al 2020 L'uomo era accusato di aver occupato un alloggio popolare al villaggio Santa Barbara ed era stato diffidato a lasciare l'immobile Insieme al suo legale, l'avvocato Massimiliano Bellini, nel corso del processo ha dimostrato che l'alloggio era dei genitori, ai quali era stato assegnato legittimamente e con i quali coabitava L'uomo si era preso cura di loro per parecchi anni fino a quando, data l'anzianetà, sono deceduti Da allora il sessantenne era rimasto ad abitare in quell'abitazione continuando a pagare il canone di locazione Il pubblico ministero aveva chiesto la pena di otto mesi di reclusione e 300 euro di multa ma il giudice ha riconosciuto l'innocenza dell'imputato che è stato assolto appunto perché il fatto non sussiste La Federazione Medici di Famiglia, in una nota, spiega che ancora una volta la medicina di famiglia viene ignorata nei provvedimenti in discussione a sostegno delle imprese e degli studi professionali per sopperire ai costi del caro energia e dell'inflazione Oltre ad averla dimenticata nei provvedimenti dedicati al ristoro dei dipendenti pubblici per i quali è stata prevista una indennità e una tandem per il 2023 come anticipo sul prossimo contratto pari all'1,5% dello stipendio è stata esclusa anche dai provvedimenti del decreto aiuti quota a favore delle imprese Probabilmente non è ancora chiaro che il medico di famiglia è un libro professionista convenzionato assimilabile ad una piccola impresa e come tale tutti gli oneri di gestione del proprio studio professionale sono a suo carico, compresa la presenza di personale amministrativo e infermieristico Non si comprende allora perché escluderlo dai provvedimenti che prevedono agevolazioni per le imprese e gli studi professionali, dal momento che al contrario di altri professionisti che operano con partita IVA con costi di gestione a proprio carico, non può adeguare le tariffe delle proprie prestazioni ai costi sostenuti essendo un servizio pubblico regolamentato da una convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale peraltro ferma al 2018 Per queste ragioni la Federazione Medici di Famiglia della provincia di Caltanissetta vuole dare un segnale a tutte le forze politiche, locali e nazionali che in questo momento stanno discudendo la prossima legge di bilancio indicendo per il 15 dicembre la giornata delle visite ambulatorie a lume di Candela per sottolineare le condizioni critiche in cui lavorano i medici di famiglia di questa provincia senza ricorrere a sistemi di protesta più radicali che in questo momento di picco dell'influenza stagionale e recrudescenza della pandemia sarebbero contrari al senso di responsabilità verso i cittadini assistiti che da sempre caratterizza questa professione Continuiamo a parlare di sanità Anestesisti e rianimatori Intervene l'Associazione Noi per la Salute È l'APS Noi per la Salute di Nanselmi che dopo aver appreso dalla stampa della carenza di medici anestesisti e rianimatori dell'ASP di Caltanissetta segnalata da una sigla sindacale proprio in riferimento agli ospedali di Gela e Caltanissetta ha espresso preoccupazione L'APS chiede alla direzione strategica quali saranno i provvedimenti che saranno attuati per fronteggiare la situazione partendo dal fatto che riassumono così dopo aver appreso che all'ospedale Santelia sono in servizio in terapia intensiva 17 medici di cui un medico distaccato a Mussomeli più il primario invece dei 19 previsti e dicono i rappresentanti dell'associazione siamo a conoscenza che l'unità operativa semplice di anestesia è formata dai 3 medici invece dei 15 previsti e che 4 medici dal 1 gennaio saranno dimissionari perché hanno scelto di andare a prestare la loro opera in altro ospedale dicono inoltre siamo a conoscenza che nel 2023 altri due medici della terapia intensiva andranno in pensione per cui sarà ancora più rilevante la carenza di organico e aggiungono nella nota che a turno ogni giorno un medico del Santelia si reca a Mussomeli per garantire la reperibilità H24 determinando l'ulteriore mancanza di un'unità medica nella dotazione della terapia intensiva l'associazione dice inoltre di essere a conoscenza della gravissima carenza di organico del personale medico del reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela ridotto a 6 unità più il primario così oltre a manifestare la loro solidarietà al personale medico che viene sottoposto a stress lavorativo esprimono anche la loro forte preoccupazione per la situazione in tema di diritto alla salute e garanzia dei livelli essenziali di assistenza infatti la carenza di anestesisti e rianimatori determinerebbe spiegano la non possibilità di avvalersi al meglio delle sale operatori la non possibilità di operare nelle migliori condizioni di reparti come chirurgia generale chirurgia vascolare emodinamica la gastroenterologia e lo stroke unit infine propongono che l'ASP si attivi per creare convenzioni con le altre ASP di dotazioni organiche più congrue chiedendo all'assessorato regionale della salute di coordinare l'applicazione di misure di emergenza per fronteggiare la situazione al momento nessuna replica arriva da parte dell'ASP da giovedì 15 fino al 24 dicembre lungo l'autostrada 19 Palermo-Catania rimarrà chiusa la rampa in uscita dello svincolo di Rosa per i veicoli provenienti da Palermo lo comunica in una nota l'ANAS l'azienda nazionale autonoma delle strade statali il provvedimento da seguito a una richiesta giunta dalla città metropolitana di Palermo finalizzata all'esecuzione di interventi di manutenzione su una strada di propria competenza adesso parliamo del consorzio universitario si è tenuto oggi il primo festival universitario nisseno della ricerca un congresso con workshop e orientamento all'aula magna del consorzio nisseno io ho bisogno di pensare solo con il dubbio si rifà la scoperta all'evoluzione della conoscenza che ha sempre avuto noi sono passati 16 secoli ma lo spirito della ricerca è rinascinato da allora siamo in realtà i più bravi per la ricerca abbiamo migliorato gli strumenti abbiamo aumentato le nostre conoscenze di base ma non state tutto rimane un'assimo ciò che scoprò oggi sarà la base di domani si apre così la prima edizione del festival universitario nisseno della ricerca all'interno dell'aula magna del consorzio universitario di Caltanissetta ad ideare ed organizzare l'evento sono stati i rappresentanti degli studenti dell'università degli studi di Palermo del polo territoriale di Caltanissetta all'interno del consiglio di polo Tommaso Marino e Veronica Sardo in collaborazione con gli organi accademici del consorzio universitario nisseno conoscenza e promozione sono alla base di questo appuntamento che ha voluto fare conoscere i percorsi di studio e le potenzialità lavorative che sul territorio nisseno ci sono ed esistono guardando anche alle ultime novità in campo di ricerca medica biomedica ed agraria far vedere fare una presentazione almeno alcuni temi di ricerca che vengono affrontati dai docenti che insegnano a Caltanissetta l'iniziativa devo dire e li ringrazio tantissimo nasce dai ragazzi che sono rappresentanti del consiglio di Polo sono rappresentanti degli studenti nisseni dentro il consiglio di Polo è stata proprio una loro idea e lo scopo è far sapere anche ai ragazzi delle scuole dei licei che in realtà i docenti che vengono qui a insegnare sono anche ricercatori cioè fanno ricerca perché l'università si fonda necessariamente su due grandi pilastri da una parte è la didattica ma l'altro è la ricerca ad intervenire al congresso in videoconferenza anche il rettore dell'università di Palermo Massimo Midiri e sono stati anche gli otto docenti in presenza ad intervenire con le loro relazioni ovvero il professore Celestino Bonura la professoressa Beatrice Belmonte la professoressa Francesca Toia il professore Giuseppe Giglia il professore Vincenzo La Carubba il professore Francesco Carfipavia il professore Francesco Marra presenti sia studenti universitari che le scuole secondarie di secondo grado del territorio è stata approvata la graduatoria degli operatori turistici che prenderanno parte alla BIT Milano 2023 la Borsa Internazionale del Turismo con il sostegno della regione siciliana saranno 34 le aziende siciliane del settore turistico che avranno un loro spazio espositivo nello stand dedicato alla regione siciliana la prossima edizione della rassegna si terrà a Milano dal 12 al 14 febbraio 2023 il presidente della regione Renato Schifani dichiara dopo due anni di rallentamento del flusso turistico dovuto alla pandemia il settore sta vivendo una fase di grandi cambiamenti la regione ha sempre investito nel turismo continuerà a farlo lo stesso farò al fianco degli imprenditori a Milano e li incontrerò anche prima di quell'importante appuntamento per ascoltare le loro idee e i loro progetti per il futuro parliamo adesso di sindacato ci spostiamo a Gela per il settimo congresso della federazione italiana dei lavoratori commercio alberghi menze e servizi di Caltanissetta aderente alla CGL il settimo congresso della filcams CGL di Caltanissetta si è tenuto ieri a Gela la federazione italiana dei lavoratori del commercio alberghi menze e servizi è presente in tutto il territorio nisseno e rappresenta lavoratrici e lavoratori che operano in quei settori che producono il cosiddetto lavoro povero ovvero le pulizie le riflessioni scolastiche le menze aziendali dove si lavora per poche ore rincorrendo diritti e dignità dall'importanza del dialogo sociale con le istituzioni guardando al territorio e al paese Italia sono state molte le domande centrali al dibattito dagli attuali problemi dei lavoratori al loro futuro fino alle attente riflessioni e le critiche sulle scelte del governo Meloni presenti al convegno Sandro Pagheria segretario generale della filcams CGL Sicilia Rosanna Moncata segretaria generale CGL Caltanissetta Piera Alba Fraddani della filcams nazionale ad intervenire oltre alle delegate e delegati anche i rappresentanti di Confcommercio Caltanissetta Enna Arci Sicilia consulenti del lavoro punta il dito contro le liberalizzazioni delle aperture durante il suo intervento Nuccio Corallo responsabile territoriale che ha parlato del bisogno di tornare alla conciliazione dei ritmi vita lavoro contrariamente a quanto fanno i datori che molto spesso seguono la politica del sempre aperto e che tuttavia dice ancora Corallo non dà ritorni economici commisurati creando così lavoro povero e precario con condizioni lavorative sempre più difficili e a farne le spese sono proprio i lavoratori sottolinea ancora una volta il sindacalista il lavoro muore bisogna avere il coraggio di rompere gli schemi e domandarci se quella di lavorare la domenica sia una vera libertà e critica ancora una volta il sindacato lo strumento del voucher per i settori alberghiero ristorazione del lavoro domestico che diventa strumento che porta indietro il mondo del lavoro anziché avanti punto sul quale la sigla dichiara che non arretrerà di un millimetro il dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali ha riaperto i termini dell'avviso pubblico a Sportallo rivolto ai comuni per il finanziamento del reddito di libertà da destinare alle donne vittime di maltrattamenti ai loro figli per favorire l'affrancamento dalla situazione di violenza e sostenerne il conseguimento dell'indipendenza economica dalla regione fanno sapere che con questo provvedimento anche i comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti possono presentare più istanze relative a diversi progetti personalizzati di importo ciascuno non superiore ai 10.000 euro gli enti capoluogo di provincia o con popolazione che supera i 30.000 abitanti potranno presentare fino a 5 progetti parliamo adesso di una iniziativa a Caltanissetta che riguarda giocattoli e libri sospesi promossa dall'associazione commercio servizi turismo e piccole e medie imprese iniziativa di carattere solidale dell'ASCOM Sicilia Caltanissetta in collaborazione con l'associazione dona per un sorriso per donare giocattoli e libri ai bambini meno fortunati il Natale è il periodo dell'anno in cui piccoli gesti di solidarietà possono dare tranquillità e serenità anche a chi sta vivendo un momento difficile ma anche permettere a chi regala un giocattolo di godere dello spirito natalizio chiunque desideri rendere felice un bambino potrà acquistare un giocattolo o un libro presso i negozi aderenti all'iniziativa e lasciarlo sospeso i giocattoli e i libri raccolti verranno distribuiti il giorno della Befana ai bambini con la collaborazione dell'associazione dona per un sorriso all'interno sono a disposizione salvadanai dove chi vuole potrà lasciare un'offerta che verrà utilizzata per l'acquisto di libri e giocattoli per quest'anno per questa festività natalizia Ascom ha deciso di donare un sorriso ai bambini meno fortunati infatti grazie alla collaborazione di tanti negozi giocattoli della città e di alcune librerie nissene abbiamo deciso di organizzare il regalo sospeso il regalo sospeso consiste nel lasciare per chi può e chi vuole un regalino che può essere un giocattolo o un libro o qualsiasi altro oggettino presente all'interno dei negozi acquistarlo lasciarlo nel negozio e poi sarà nostra cura per il giorno della Befana distribuirlo ai bambini meno fortunati tramite la collaborazione di Dona per un sorriso che è un'associazione che si occupa appunto di volontariato oltre al regalo sospeso sarà possibile lasciare all'interno di diverse attività commerciali che hanno aderito un piccolo contributo in denaro in alcuni salvadanai che sono stati posizionati nelle attività inoltre sono state realizzate due geste gastronomiche piuttosto importanti che verranno messe all'asta e il ricavato sarà devoluto per l'acquisto dei regali San Paolo solidarietà invito rivolto alla comunità parrocchiale un invito alla solidarietà a quello che la parrocchia di San Paolo rivolge a tutta la comunità parrocchiale in occasione del Natale lo fa attraverso diverse iniziative organizzate in queste settimane che precedono i giorni di festa domenica 11 dicembre ad esempio insieme all'inaugurazione dei presepi preparati dai bambini del catechismo con le loro catechiste e soprattutto con il coinvolgimento delle famiglie è stato inaugurato anche un mercatino di Natale che permetterà di sostenere lo sportello della carità madre speranza della parrocchia con i nostri parrocchiani hanno portato o hanno comprato degli oggetti o addirittura molti si sono impegnati a creare ecco degli oggetti per metterli poi in vendita e sempre il ricavato andrà allo sportello della carità madre speranza e diciamo che questo l'iniziativa è stata curata da un nuovo gruppo che è sorto in barrocchia che si intitola il gruppo delle papere e proprio sono un gruppo di persone che si impegnano ecco a sostenere le varie attività della parrocchia e nel frattempo stanno insieme pregano insieme e creano anche ecco dei lavoretti per metterli poi a disposizione dello sportello della carità e ancora in programma una cena solidale il 20 dicembre il ricavato di questa cena andrà proprio devoluto alle famiglie più bisognose della nostra parrocchia magari trasformando in cibo in aiuti concreti verso le famiglie noi in barrocchia abbiamo anche la grazia di avere il responsabile della caritas che è Diego Pletto che è anche uno chef e quindi preparerà una bella cena per vivere questo momento che serve per noi per stare insieme ma nello stesso tempo serve anche a fare solidarietà e carità si pensa anche al pranzo del 25 dicembre per i più bisognosi grazie alla generosità dei parrocchiani e non solo il giorno di Natale invece abbiamo pensato di dare dei buoni alle famiglie per andare a ritirare il pranzo di Natale in un locale che stabiliremo della città quindi i nostri parrocchiani stanno prenotando questi pranzi offrendo questi pranzi e poi il giorno di Natale verranno dati ecco alle famiglie più bisognose della nostra parrocchia che seguiamo già da tempo ecco noi non facciamo queste iniziative fine a se stesso ma sono iniziative che ci aiutano a uscire fuori dal nostro egoismo dal nostro vivere ripiegati su noi stessi e aprirci alle necessità degli altri d'altronde il Natale dice proprio questo un Dio che ancora una volta decide di farsi uomo per amore per la salvezza di tutti gli uomini e noi in quanto cristiani e seguendo la logica dell'ingarnazione siamo chiamati a essere presenti dove c'è l'uomo e soprattutto dove c'è l'uomo in difficoltà per portare questo messaggio di speranza che Gesù Cristo ancora una volta viene e salva ciascuno di noi buon Natale a tutti giornata del ringraziamento si è svolta la celebrazione in cattedrale come ogni anno la col diretti e il popolo delle campagne hanno ringraziato il Signore per i doni ricevuti nella certezza della profonda fede e nella costante riconferma dei valori ispiratori della dottrina della scuola sociale cristiana lo hanno fatto domenica mattina in cattedrale con una santa messa presieduta dal vescovo Mario Russotto con la partecipazione delle delegazioni dei soci provenienti da tutta la provincia nissena è una giornata che fin dalla fondazione fin dal 44 noi celebriamo addirittura un appuntamento nel calendario liturgico è il giorno nel quale ringraziamo il Signore per tutto quello che è successo durante l'anno non tutto è andato bene non ci sono situazioni per le quali spesso gioire però dobbiamo ringraziare il Signore per questo dono che ci ha dato il dono della terra della quale siamo custodi che dobbiamo trovare il modo di portare avanti in una provincia come questa che ha una economia quasi totalmente agricola diventa importante saper entrare nell'ottica della gestione del dono pensare che questa è una cosa che ci è stata data in prestito e che dobbiamo restituire e quindi il senso è questo siamo qui per ringraziare presepi artigianali di San Cataldo inaugurata la prima mostra su iniziativa dell'associazione Il Pettirosso è stata inaugurata a San Cataldo l'arte dei presepi prima mostra dei presepi artigianali allestita tra la Chiesa Madre e l'oratorio del Santissimo Sacramento conosciuto in dialetto con Muratò un'iniziativa dell'associazione culturale Il Pettirosso abbracciata con entusiasmo dall'arciprete parroco della Chiesa Madre San Cataldese Don Alessandro Giambra e alla quale hanno aderito diverse associazioni presepisti del territorio e non solo l'inaugurazione è stata curata anche dall'associazione Quarta Parete che ha realizzato domenica 11 dicembre una rievocazione storica dal titolo Il Sì di Maria una trentina circa i presepi presenti diversi materiali utilizzati dai tappi delle bottiglie di plastica al cartone alla terracotta la natività viene rappresentata in vari contesti da un quadro e una piccola cappella a quello più tradizionale con la grotta la stella cometa e i tipici messeri di un tempo o ancora Gesù Bambino tenuto da due mani che fuoriescono dal mare tra reti e una barchetta alle spalle L'iniziativa nasce grazie alla mia passione per il presepe ho voluto regalare alla città di San Cataldo questo momento di aggregazione coinvolgendo diverse associazioni in questa mostra la mostra è realizzata da diverse associazioni e soprattutto da diversi ragazzi speciali nonché abbiamo pure una casa di riposo che ha voluto donare il proprio presepe realizzato interamente da tutti gli anziani ospiti all'interno della mostra abbiamo oltre alle associazioni diversi appassionati ma abbiamo anche il piacere di ospitare il presepe realizzato all'associazione Amico Medico che rappresenta la chiesa del convento di com'era nelle origini e quindi dopo tanti anni sarà messa anche la chiesa in mostra proprio per far apprezzare le nostre tradizioni e la nostra arte presepiale la mostra è aperta da giorno 11 fino al 6 di gennaio stiamo vedendo di fare diverse anche delle attività e soprattutto la mostra sarà sempre aperta a tutti vogliamo anche ricevere persone che vengono da fuori proprio per far ammirare la nostra arte e all'interno della mostra troveranno sempre qualcuno che andrà a spiegare tutti i presepi nelle loro forme nelle loro particolarità San Cataldo Babbo Natale in moto farvano i preparativi per la manifestazione prevista per Domenica 18 Domenica 18 dicembre ci sarà a San Cataldo la seconda edizione di Babbo Natale in moto manifestazione di solidarietà aperta a tutti gli amanti delle due ruote che vestiti da Babbo Natale sfileranno per tutta la giornata per le vie della città sarà un motoraduno dove ci saranno alcune soste previste e giochi per i bambini della città sarà un giro all'insegna del divertimento e dello spirito natalizio partendo dal monumento ai caduti dove alle nove i motociclisti si raduneranno per poi andare in giro fino alla sosta a Palazzo di Città dove faranno visita con i doni alle comunità Germoglio e Alba e toccare altre zone come la Chiesa Madre il quartiere Santa Maria di Nazareth Corso Sicilia e Corso Vittorio Emanuele per arrivare sino a Pizzo Carano il Calvario la Chiesa Cristo Re per poi fermarsi al municipio per scambiarsi gli auguri natalizi il prossimo servizio la Nissa prima dell'ultima partita del girone di andata dell'anno a Sciacca si regala altri due tasselli importanti il direttore tecnico Antonio Emma in collaborazione con il direttore generale Vincenzo Cancelleri hanno perfezionato l'ingaggio dell'esperto difensore centrale Michele Fragapane prelevato dalla Mazzarese squadra che milita come la Nissa nel girone A del campionato di eccellenza poi al posto del partente Selmi ritorna in bianco scudato il portiere Claudio D'Amico che con la Nissa aveva disputato solo il ritiro estivo e già sceso in campo domenica al Tomaselli nella vittoriosa partita contro il Mazzara ho sposato questo progetto con Dandavoia speriamo di fare il più bene possibile pensiamo in Dandasciacca e poi vediamo il da farsi ho deciso di accettare questo progetto dopo aver parlato con il dirigente Cancelleri e il direttore Antonio Emma mi è piaciuto molto il progetto che lui mi ha voluto spiegare e ho deciso di ritornare perché tengo anche a questa maglia a questi ragazzi e a tutto questa edizione del nostro telegiornale termina qui vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità buon proseguimento un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trabi Meteo nella giornata di giovedì transiterà un altro peggioramento che coinvolgerà al centro nord Italia riportando piogge ma anche nevicate fino a quote piuttosto basse sull'arco alpino a tratti anche in pianura al nord ovest a fine giornata vediamo più in dettaglio la mappa della nuvolosità che ci mostra comunque un'Italia interessato dalle nuvole in particolare al centro nord mentre la situazione al sud andrà temporaneamente migliorando più in dettaglio anche dello zoom delle precipitazioni notiamo come questo nuovo peggioramento transiterà soprattutto al centro nord con fenomeni anche abbondanti sulla Liguria sulla Toscana in movimento verso il nord est e nevicate che coinvolgeranno l'arco alpino ma a tratti anche la pianura del nord ovest più in dettaglio quindi della previsione avremo una giornata che sarà migliore al sud con tempo anche asciutto abbastanza soleggiato mentre andrà peggiorando dal pomeriggio sul centro nord con piogge e nevicate come dicevo che guadagneranno quote di pianura in particolare al nord ovest tra il Piemonte e la Lombardia occidentale verso sera ma anche sui settori alpini nevicherà fino a fondo valle nel corso del tardo pomeriggio e nella serata per maggiori dettagli chiaramente consultate della nostra app di Trabimeteo servizi di pubblica utilità farmacie di turno caltanissetta servizio diurno la china via Fraggia-Ratana servizio notturno la china via Fraggia-Ratana grazie a tutti grazie a tutti